Allora, cari tifosi del Milan, dopo la splendida prestazione di Cacà e compagni, siete pronti? Come a fare che cosa? Ad andare ad Atene? Beh, io sì, infatti ho qui la classe per vedere dove si trova, cerchiamolo. Allora, Africa, Africa no, America settentrionale, vediamo. Come Paolo? Ah, pagina 63, grazie. 47, ah, 63. Eh, ma che bello, mi sembra proprio bello come posto. Peccato che lo stadio sia indecoroso. Guardate, guardate anche voi amici a casa, ma come si fa a giocare in uno stadio così indecoroso? Ma dai, poi la UEFA critica i nostri stadio. Vabbè, lasciamo perdere. Tanti, tantissimi complimenti al Milan e speriamo che riesca ad aggiudicarsi la finale. Complimenti vivissimi e buonanotte, buonanotte, buonanotte. Grazie. Grazie.